25 giugno 2022 siamo in diretta quando sono le 10.30 e 33 secondi bentrovati cari amici di Padre Pio TV per il nostro tempo d'estate saremo in vostra compagnia fino alle 11.30 all'orario in cui ci collegheremo con la chiesa di San Pio da Pietrelcina per la celebrazione eucaristica quotidiana vi giungo il nostro saluto da San Giovanni Rotondo mentre vedremo tra pochi istanti nell'Edual l'immagine che ci giunge in diretta dal Sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in questo sabato che è una giornata che come tutti ben saprete è tradizionalmente dedicata alla Vergine Maria e che questa sera si trasformerà potremmo dire in un cenacolo a cielo aperto per la fiaccolata mariana dunque l'invito è quello di collegarvi come sempre a partire dalle ore 21 come ogni sabato per partecipare a questo momento di fede e di devozione nel frattempo però ricordiamo anche le pagine social attraverso cui potete entrare in contatto con noi e scoprire quella che un po' è la nostra programmazione eccoli qui la pagina Facebook Padre Pio TV la pagina Instagram il canale YouTube la pagina Twitter e per finire il nostro sito internet www.padrepio.tv vorrei anche ricordarvi come sempre il nostro numero di telefono Whatsapp per inviarci le vostre fotografie in questo sabato mattina che è tradizionalmente una giornata dedicata anche agli hobby o al mare visto che comunque la stagione estiva è già cominciata dunque inviateci le vostre fotografie dal luogo da cui vi trovate 331 737 8033 l'avete visto in sovraimpressione grazie a Luigi Martino e Vito Ciavarella e come sempre in apertura di puntata l'appuntamento con la storia è a cura di Maria Pia Picciafuoco con Un giorno una storia vediamo insieme 25 giugno 1741 Maria Teresa d'Asburgo è incoronata regina d'Austria figlia dell'imperatore Carlo VI grazie alla prammatica sanzione che abolì la legge salica fu la prima e unica donna della casa d'Austria a ereditare la corona Maria Teresa Valburga Amalia Cristina von Habsburg arci duchessa regnante d'Austria e regina regnante d'Ungheria e Bohemia di Croazia e Slavonia duchessa regnante di Parma e Piacenza gran duchessa di Toscana nei suoi 40 anni di regno creò un caleidoscopio d'alleanze affrontò conflitti e accordi su tutto lo scacchiere continentale sempre allo scopo di consolidare l'impero la tradizionale alleanza con l'Inghilterra e le potenze marittime fu abbandonata con il rovesciamento del 1756 che pose termine al secolare contrasto tra i Borboni e gli Asburgo oltre ad un'impronta decisa nella politica estera dedicò molta energia all'attuazione di quello stato di benessere che era uno degli ideali dell'epoca fra le iniziative da lei patrocinate gli studi per una nuova legislazione Codex Theresianus e l'istituzione di scuole popolari sovrana illuminata sostenere l'importanza fondamentale dell'istruzione pubblica prevalse per lei sull'essere devota cattolica apostolica romana poiché nell'Europa meridionale tutte le autorità civili e religiose erano concordi nell'ostacolarla morì il 29 novembre 1780 lasciando orfani i suoi 16 figli e soprattutto i popoli che avevano imparato ad apprezzarla ed amarla Grazie Maria Pia per questa bella pagina di storia che ogni giorno arricchisce il nostro programma il nostro tempo d'estate ora andiamo dall'altra parte dello studio perché c'è Paola Russo pronta con le notizie dall'Italia e dal mondo a te Paola Grazie Leonardo eccoci insieme per questo spazio dedicato appunto agli aggiornamenti abbiamo una buona notizia che riguarda il bambino di nove anni di mestre scomparso ieri nella zona di Boschi e Pascoli sopra Tambre nel Bellunese il bambino è stato ritrovato è stato individuato dall'elicottero e dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo sta bene già tra le braccia dei suoi genitori le ricerche sono proseguite per tutta la notte infatti questa mattina alle 8.35 le ricerche non davano ancora esito positivo e il piccolo secondo una prima ricostruzione si sarebbe allontanato mentre il padre era intento a consultare alcuni cartelli di segnalazione dei sentieri nell'area di Pian delle Laste e a nulla è servita la ricerca immediata nel tratto che collega il punto ad un agriturismo verso il quale si sperava il bambino si fosse diretto le ricerche hanno impegnato oltre 100 uomini tra professionisti volontari oltre a unità cinofile e molecolari alle ricerche ha partecipato per tutta la notte anche il papà del ragazzo raggiunto successivamente anche dalla madre padre e figlio erano in vacanza da qualche giorno a Sant'Anna quindi è il caso di dire tutto è bene quel che finisce bene questa notizia riportata da Lanza andiamo ora sul Corriere della Sera perché c'è un'intervista al presidente dell'AIFA a proposito appunto della variante Omicron questa ondata di fine giugno i più fragili vanno protetti subito parola di Nicola Magrini capo dell'Agenzia Italiana del Farmaco che appunto fa sapere che la quarta dose va fatta agli ultraottantenni e ai fragili rinforza questo messaggio e non è particolarmente in ansia per il rialzo dei contagi nelle ultime settimane però il virus dice Magrini ha avuto una nuova accelerazione il numero dei positivi è abbastanza elevato e le persone che appartengono alle categorie fragili quindi over 80, 60, 79 anni con immunodepressione devono essere protette quasi tutte le restrizioni sono state revocate l'intento è quello di lasciar correre il virus e infezioni e creare una larga base di popolazione immunizzata puntando all'endemia chiede il giornalista del Corriere della Sera a Magrini e lui risponde no lo dico con fermezza non intendiamo favorire i contagi questa ondata è sorprendente ma non si accompagna a pazienti gravi l'Italia continua a mantenere una visione cauta e a raccomandare le mascherine in certe situazioni e poi appunto anche alla domanda a questo punto non sarebbe meglio aspettare il vaccino aggiornato anziché insistere a proporre il vecchio risponde Magrini non è una buona scelta ripeto per i soggetti a rischio la quarta dose è sicura i dati della protezione degli over 80 sono convincenti e dovrebbero spingere i destinatari della raccomandazione perché sappiamo che a 4-5 mesi dalla terza dose l'immunità anticorpale scende gradualmente meglio vaccinarsi di nuovo prima di partire e vivere le vacanze in tranquillità e poi appunto si conclude con la domanda anche in vista della prossima stagione autunnale ci sarà un vaccino combinato anti-covid e anti-influenzale si chiede a Magrini risponde il presidente dell'AIFA non credo chiediamoci se questa sia la strategia ottimale la linea di ricerca più interessante è la messa a punto di un unico vaccino contro tutti i coronavirus questa notizia completa l'intervista al presidente dell'AIFA all'agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini la potete trovare sul Corriere della Sera ci spostiamo sull'avvenire con purtroppo una brutta notizia che ci porti in provincia di Agrigento dove un incendio quasi sicuramente doloso ha distrutto 10 ettari di grano pronti per la mietitura coltivati dalla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra su terreni confiscati alla mafia siamo a Naro in provincia di Agrigento e quei terreni furono confiscati proprio dal giudice dal giovane magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 è beatificato lo scorso anno la mafia non si arrende e colpisce proprio chi concretamente ha raccolto il testimone di Livatino un danno considerevole almeno 10.000 euro è una forte preoccupazione infatti si tratta del quarto incendio subito dalla cooperativa negli ultimi tre anni sempre nello stesso luogo come spiega in questa intervista in questo pezzo dell'avvenire il presidente della cooperativa Giovanni Loiacono sempre lì sempre con la stessa modalità non è certo una coincidenza andati in fumo più di 100 quintali di grano biologico che poi sarebbero stati utilizzati per produrre l'ottima pasta del consorzio Libera Terra Mediterraneo premiata come una delle migliori d'Italia c'è l'assicurazione ma sarà recuperato poco della perdita e così lo stesso Loiacono lancia un forte appello diamo fastidio a molti noi certo non ci fermeremo ma potremo andare fin quando potremo daremo fondo alle riserve ma se lo Stato vuole vincere deve puntare anche qualcosa su di noi perché siamo deboli e non abbiamo un'economia tale da poter subire danni per altri anni insomma quindi anche perché se la cooperativa fallisce fa sapere Loiacono lo Stato ha perso e la mafia ha vinto quindi anche questo è un interessante pezzo pubblicato sull'avvenire di oggi diamo un'occhiata adesso alla DN Kronos per scoprire se ci sono ulteriori aggiornamenti in queste ultime notizie no non ci sono ulteriori aggiornamenti bene per ora è tutto Leonardo ti restituisco la linea grazie grazie Paola pronta a richiedercelo ovviamente qualora ci dovessero essere aggiornamenti ricordiamo allora prima di andare in pubblicità il nostro numero di telefono Whatsapp 331 737 8033 e se la regia è pronta potremo anche far rivedere l'immagine del del sagrato ecco perché questa mattina essendo un sabato ecco abbiamo davvero tante tante persone del sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie eccola grazie alla regia di Luigi e di Vito e con questa immagine allora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorniamo ancora qui in diretta con il nostro tempo d'estate restate con noi grazie a Don Francesco Armenti per queste preziose riflessioni e voglio ringraziare anche Ornella di Alife che ci ha inviato una bella fotografia che ci giunge da un luogo molto caro che vediamo inquadrato nel nostro nel nostro led wall siamo nella chiesa conventuale di Pietrelcina una foto dice scattata in uno dei miei recenti pellegrinaggi a Pietrelcina ringraziamo allora Ornella da Alife che ha voluto renderci partecipi di questo pellegrinaggio in questo luogo per noi tanto caro Pietrelcina il luogo che ha dato i Natali a Padre Pio da Pietrelcina appunto e ricordiamo allora il nostro numero di telefono 331 737 8033 inviateci le vostre fotografie le faremo vedere nel corso di questo programma Tempo d'Estate ma ora cambiamo argomento perché come sempre come ogni giorno vogliamo aprire la pagina dedicata alla botanica al pollice verde alle piante perché in questo Tempo d'Estate sono tanti i colori i profumi gli odori che riempiono le nostre case le nostre strade i nostri appartamenti e attraverso questa rubrica vogliamo un po' riscoprire questa nobile arte del giardinaggio che ci viene in qualche maniera tramandata grazie agli amici di Garden Foggia le immagini e al montaggio di Luigi Martino dunque vediamo insieme Un giorno un fiore Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore oggi vi voglio parlare della pianta dei begonia questi esemplari sono delle begonie che vengono spesso utilizzate all'esterno per arricchire e decorare quegli spazi dove manca una nota di colore infatti la nota di colore è data soprattutto dalla loro fioritura abbondante molto colorata accesa che ci aglieta ai giorni estivi infatti la fioritura è sempre va sempre in concomitanza con il periodo estivo quindi da fine primavera inizio estate per prolungarsi brevemente o sporadicamente fino all'inizio dell'autunno è una pianta molto resistente che sta bene in pieno sole sta bene a mezz'ombra ovunque noi la collochiamo negli spazi aperti lei si adatta facilmente è una pianta che ha una grande forza di adattamento ed è molto resistente resistente perché sopporta bene il caldo ovviamente la dobbiamo sempre aiutare con un po' d'acqua soprattutto nei periodi più torridi sopporta bene anche i periodi un po' freddi infatti quando fa freddo la parte aerea tende a essere un po' rovinata dal gelo ma noi non dobbiamo preoccuparci perché lei poi in primavera dal terreno dai suoi nodi principali rispunta per offrire di nuovo la sua bellezza con le sue foglie molto carnose e i suoi fiori molto colorati esistono diversi colori in commercio dal rosso rubino al rosso corallo il bianco il rosa e ci sono soprattutto diverse varietà di begonia questa qui davanti a me è una begonia da esterno ma ci sono anche varietà un po' più delicate che stanno meglio in appartamento come la begonia dal fiore olandese la begonia rex maculata e via dicendo sono le classiche piante dei nostri avi da cui di generazione in generazione si portava avanti una catena sia familiare che agricola spezzando semplicemente un rametto e ponendolo nella terra è la pianta della continuità a me piace molto è resistentissima e allora grazie grazie agli amici di Garden Foggia grazie anche alle immagini di Luigi che davvero ci restituiscono la bellezza di queste piante di questi colori che sono davvero molto molto belli dovremmo avere credo un'altra fotografia inviataci dai nostri amici telespettatori al numero 331 737 8033 eccola grazie la vediamo nel nostro led è un'immagine di ovviamente devozione al nostro santo Padre Pio credo arrivi da Ragusa se non ho letto male ecco grazie dalla Calabria grazie per avermi per avermi corretto e che ci appunto restituisce l'immagine di una devozione al nostro santo al nostro San Pio da Pietrelcina in questo sabato 25 giugno 2022 noi ora ci fermiamo per la pubblicità ancora qualche istante di pausa e poi ritorneremo insieme con la rubrica dedicata al coraggio di ogni giorno restate con noi da alcune settimane il nostro tempo d'estate si arricchisce di un prezioso contributo quello di Felice Piemontese che attraverso la rubrica il coraggio di ogni giorno ci aiuta a riscoprire quelle vicende buone che popolano la nostra Italia in un anniversario importante che cade in questo 2022 30 anni fa 1992 in quel periodo tra il 23 maggio e il 19 luglio si consumavano due delle stragi più efferate che la storia d'Italia ricordi quella del giudice Giovanni Falcone di sua moglie della scorta e di Paolo Borsellino e della sua scorta ebbene per questo anniversario così importante per questi 30 anni di memoria questi 30 anni di impegno Felice Piemontese ci parla del coraggio di ogni giorno vediamo insieme perché una società vada bene si muova nel progresso nell'esaltazione dei valori della famiglia dello spirito del bene dell'amicizia perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore basta che ognuno faccia il proprio dovere eccoci qui ben ritrovati al coraggio di ogni giorno alle pillole del coraggio di ogni giorno coraggio di ogni giorno che è anche quello di una persona che oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi in studio e per noi davvero un piacere avere in collegamento da Palermo Giovanni Paparcuri che salutiamo e ringraziamo per l'invito scopriremo velocemente seppur brevemente in questi pochi minuti a disposizione un po' la storia di Giovanni quella che dicono in realtà in qualche modo anche essere le due vite di Giovanni Paparcuri io partirei da una data che è quella simbolica che è quella del 29 luglio del 1983 quando Giovanni era indipendente del ministro della giustizia era l'autista di Rocco Chinnici Rocco Chinnici il giudice che aveva avuto questa grandissima idea sul pool antimafia del quale avevano fatto parte anche Giovanni Falcone Paolo Borsellino altri giudici e quel giorno un'auto piena di tritolo esplode oltre a Rocco Chinnici muoiono anche due carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta e invece Giovanni Paparcuri sopravvive e credo Giovanni ricorderai per sempre poi quel giorno cosa succede da quel giorno in poi di quel giorno cosa mi ricordo intanto eravamo 29 luglio una giornata molto calda poi è diventata ancora più calda dopo la strage perché io quel giorno ero andato a lavorare a fare il mio servizio tranquillo sereno come ogni giorno ma non sapevo che da lì a poco sarebbe cambiato sarebbe cambiata per sempre la mia vita da un lato certe volte io ringrazio quello che è successo certe volte è chiaro mi ricordo che quel giorno ho perso degli amici ho perso l'appuntato l'amico l'appuntato Salvatore Bartolotta che in pratica fu lui quello che mi salvò indirettamente o direttamente non lo so poi il maresciallo Trapas poi il consigliere Chinnici non ci scordiamo il portiere dello stabile Stefano Lisacchi che poverino non c'entrava nulla il coraggio questo si chiama non lo so se questa registrazione o quello che andrà in onda quello che state facendo si chiama il coraggio e il coraggio non lo so come lo posso descrivere so solo che per essere onesti in Italia ma in particolare a Palermo in Sicilia per essere onesti bisogna avere coraggio io questo coraggio l'ho avuto quindi anche perché io sono nato in un quartiere un po' particolare di Palermo forse il quartiere più malfamato della mia città la potevi scegliere solo una potevi fare solo una scelta cioè scegliere per ottenere qualcosa di essere un delinquente un criminale o un mafioso io ho preferito la via più più difficile quello di essere una persona onesta e ripeto per essere onesti bisogna avere coraggio e ho avuto quel coraggio ho avuto anche coraggio quello di continuare a fare il mio dovere perché io se qualcuno non lo sa la strage del consigliere Chinnici fu preannunciata circa un mese prima da un libanese un certo Burjee Bergassan che questo libanese praticamente era un confidente era un doppio giochista era un trafficante di stupefacente che ha armi ed era anche un confidente delle forze dell'ordine praticamente si trovava in Sicilia per acquistare delle armi per cui se tu devi acquistare delle armi entri in contatto con un uomini di Cosa Nostra in questi incontri lui venne a sapere che a Palermo stavano preparando un attentato e comunque chi prendeva le sue informazioni era il capo della criminal polo un certo Tonino De Luca sottovalutò quelle dichiarazioni addirittura gli disse due giorni prima della strage a questo libanese che aveva saputo che dovevano utilizzare un'autobomba stile Beirut proprio testualmente perché ci sono le registrazioni telefoniche e il capo della criminal di Palermo gli disse semplicemente poi ne parliamo che deva andare in ferie fatto sta che in ferie il consigliere di Chirnici non ci hanno e fu ucciso sottovalutando quelle informazioni perché parlo di questo? lo dicevamo prima Rocco Chirnici è appunto un po' il padre del cosiddetto Pula Antimafia che è stato importante in quegli anni tra l'altro dopo quella data dopo il 29 luglio del 1983 e dopo un periodo chiaramente anche di di convalescenza perché si è stato quasi più di un anno voglio finire quel discorso del libanese perché due giorni prima perché qua subentra la vigliaccheria il coraggio la paura perché due giorni prima della strage il consigliere che intanto bisogna dire che non si preoccupava della sua vita in qualsiasi occasione lui parlava sempre io so che sono nel mirino di Cosa Nostra però spero che un giorno mi uccideranno lo so ci ho però spero che non succeda non accada nulla ai uomini della mia scorta infatti due giorni prima della strage lui ci convocò nella stanza fu un poveriggio ci mise in guardia praticamente ci lasciò la facoltà di decidere se continuerà a stare con il consigliere Chimnici noi non siamo stati dei vigliacchi l'abbiamo guardato in faccia gli abbiamo detto consigliere noi stiamo con lei che sta scherzando non l'abbiamo detto perché eravamo degli eroi o perché non avevamo paura semplicemente non siamo stati dei vigliacchi poi puntualmente quella strage è avvenuta come tu stavi ricordando poco fa la figura comunque del consigliere Chimnici forse viene ricordata molto meno di quello che merita però non ci scordiamo che il consigliere Chimnici fu l'idiatore del pool antimafia il dottore Falcone e Borsellino sarebbero diventati lo stesso grandi magistrati ma la persona il magistrato che li ha voluto in quell'ufficio a fare parte del pool fu proprio il consigliere Chimnici e l'altra cosa importante da dire che il consigliere Chimnici è stato il primo magistrato in assoluto a credere negli incontri con i ragazzi lui è stato veramente il primo magistrato che andava nelle scuole incontrava i ragazzi parlava di mafia parlava dei problemi degli stupefacenti e mi ha lasciato in eredità anche questo tra virgolette fardello perché io non lo faccio nella stessa maniera con cui lo faceva il consigliere Chimnici ti interrompo qui perché ci arriviamo dopo il 29 luglio dopo un periodo chiaramente anche di pausa dopo quello che era successo in realtà tu torni poi al lavoro vieni chiamato proprio da Falcone e da Borsellino un po' a seguirli in quella che nel frattempo era la loro attività nel cosiddetto bunkerino loro stavano istruendo il maxiprocesso hai l'onore ecco se così si può anche dire l'onore e l'onere di vivere da vicino Falcone e Borsellino in quegli anni in quegli anni cruciali per il maxiprocesso e di toccare anche con mano tutto quello che stavano affrontando in quegli anni e quel bunkerino che è quel posto in qualche modo che ha vissuto la storia del maxiprocesso oggi continui a custodirlo continui a testimoniarlo con le scuole con gli studenti che da tutta Italia arrivano presso il tribunale di Palermo per visitare il bunkerino vediamo anche delle immagini che ci manda dalla regia e quindi continui in qualche modo a far camminare ecco anche sulle tue gambe quelle che erano le idee non solo di Falcone e di Borsellino ma anche appunto del giudice Chinici tutti quelli che hanno perso la loro vita per combattere Cosa Nostra in Sicilia sì in quel bunkerino chiamiamolo bunkerino si chiama bunkerino perché è un luogo protetto perché così importante era e adesso è ancora importante perché in quegli uffici attraverso quell'immagine che voi state vedendo in quegli uffici è scattata la risposta dello Stato a quello che stava accadendo a Palermo in quegli anni non ci scordiamo in quel periodo c'era in corso la guerra di mafia avevano ucciso un sacco di magistrati uccisione di uomini delle forze dell'ordine politici quindi lo Stato non poteva stare con le mani in mano doveva fare qualcosa quel qualcosa qual è stato come hai anticipato tu è stata la nascita del maxiprocesso e comunque occorreva che a questi magistrati li facessero lavorare con tranquillità e quel bunkerino nasce appunto perché i loro uffici in realtà erano giù a pian terreno del Palazzo di Giustizia ma le finestre eravano all'esterno e non erano blindate quindi per fare lavorare in tranquillità li hanno spostati in quelle stanze in quelle tre stanze si è fatta la storia giudiziaria italiana quindi dieci anni io ci ho vissuto dieci anni all'interno di quegli uffici in quei dieci anni ho vissuto è stato un onore un privilegio un onore è stata un'arma che mi hanno dato in mano questi magistrati vi spiego io sono rimasto ferito mi hanno fatto ero gravemente ferito mi hanno fatto tanto male al di là che ho perso degli amici Bartolotta e Trapas la mia unica idea quando sono ritornato a lavorare dopo comunque dopo un anno e mezzo la mia fissazione era quella io mi devo vendicare in qualche maniera mi devo vendicare però non potevo vendicarmi girando per il Palazzo di Giustizia o per Palermo con una pistola o con un bazooka io dovevo riscattare la morte di quei miei amici con una una vendetta legale che cosa fu come fu come l'ho realizzata è stato grazie a un computer grazie alle apparecchiature elettroniche che mi hanno affidato quelle persone che si chiamano Falcone e Borsellino in particolare e con quelle armi legali io ho potuto contribuire e ho potuto riscattare anche la mia sopravvivenza perché rimanere in vita non è facile specialmente quando tu perdi degli amici e anche perché ti chiedi per tutta la vita perché ti sei salvato tu e sono morti loro quindi io non mi sono arreso o sono tornato a lavorare anche perché lo Stato non sapeva che cosa farsene di un di un sopravvissuto ringrazio e ringrazio per tutta la vita in particolare il dottore Borsellino che mi ha dato questa possibilità Giovanni in poche parole anche prima di salutarci io lo so che sono lungo a parlare lo so purtroppo ricordo dieci anni mi prende la foga e parlerei ore e ore è ovviamente un onore anche per noi poter ricevere questa tua testimonianza soprattutto per tutti quanti i telespettatori e le telespettatrici di Padre Pio TV in poche parole anche per salutarci quando il 29 luglio dell'83 comunque tu avevi 27 anni e torni poi a lavorare con Falcone con il giudice Falcone con il giudice Borsellino che avevi poco meno di 30 anni qual è quindi l'eredità qual è il messaggio che oggi vorresti dare a tutti quelli che hanno quell'età o i giovani il messaggio è racchiuso nella password del computer che utilizzava il dottore Falcone qua a Palermo ed ero io l'unico oltre che al giudice di conoscere la password di quel computer ed era semplicemente avanti significa se io ho dato un significato a questa parola specialmente dopo la strage di Capaci quella è di continuare ad andare avanti non bisogna mai arrendersi io non mi sono voluto arrendere sono andato avanti e loro anche se sono morti purtroppo non sono più con noi il messaggio che mi hanno lasciato l'insegnamento che mi hanno lasciato i giovani continuano ad andare avanti solo così noi possiamo sperare di sconfiggere la mafia e il messaggio l'esempio quello che racconto io la mia esperienza anche alcuni aneddoti della vita professionale di questi magistrati è un modo un esempio da trasmettere alle persone e quell'esempio è quello veramente di non arrenderci andiamo avanti qualsiasi cosa ci accade nella vita solo in questa maniera poi veramente possiamo sperare di sconfiggere la mafia che purtroppo la guerra non l'abbiamo vinta abbiamo vinto tante battaglie ma noi siamo qua anche con questa registrazione anche quello che faccio ogni giorno ogni giorno che vado al bunkerino è quello a un modo come un altro perché non bisogna per contrastare le mafie non occorre essere magistrati rappresentanti della forza dell'ordine l'importante è comportarsi da persona onesta qualsiasi cosa noi facciamo come direbbe Giovanni Falcone l'importante è che ognuno faccia il proprio dovere ecco specialmente lo diceva anche Don Parre Pino Puglisi anche nel nostro piccolo qualsiasi cosa va bene ripeto non occorre fare il magistrato il carabiniere eccetera eccetera anche quello che voi state facendo in questo istante è molto importante su un centinario di persone noi possiamo colpire una persona due tre quattro ma c'è qualche cosa di importante e poi lo facciamo intanto anche per noi stessi dice ho fatto qualcosa di importante per la mia coscienza per i miei figli per voi specialmente voi siete ragazzi è quello che la mia esperienza la metto a disposizione delle persone è quello che dico non bisogna mai arrendersi bisogna sempre lottare continuare e andare avanti grazie la strada comunque ragazzi è lunga non abbiamo vinto nulla abbiamo vinto tante battaglie ripeto tante battaglie siamo noi abbiamo nelle mani il destino di noi stessi e i ragazzi chi ascolterà questo video io mi affido a loro grazie l'esperienza è servita sono qua sempre a disposizione quindi spero che serve ripeto che serva a qualcosa grazie Giovanni per essere stato con noi per questa preziosa testimonianza e l'invito ovviamente perché no di rivederci e magari di averti come ospite qui proprio a San Giovanni Rotondo chi lo sa quando dite voi se avete bisogno facciamo qualche riunione qualche collegamento e parliamo di più grazie grazie per essere stato con noi e appuntamento alla prossima puntata del coraggio di ogni giorno credo ancora profondamente nel lavoro che faccio so che è necessario che lo faccia so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare grazie a tutti